Speriamo che vengano tutti quanti i sindaci, facciamo appello affinché i sindaci non ci facciano mancare questo loro fondamentale, vitale apporto affinché noi riusciamo ad ottenere qualcosa, perché siamo proprio ridotti alla finale di questo incontro particolare, perché non comprendiamo nella maniera più assoluta il perché l'alta velocità, che va bene che passi per il Vallo di Diano, ma non si comprende perché debba scendere a Praia e non nel Golfo di Policastro per proseguire poi Sapri-Praia. L'incontro è per domani alle 17, faccio appello a tutti quanti i cittadini, che vengano e ascoltino, perché abbiamo verificato che molti di loro sono completamente all'oscuro di ciò che sta succedendo. Qui ci stanno rubando la ferrovia, perché è bene che si sa che se passa questo progetto che va a finire a Praia, il tracciato dell'alta velocità, noi qui circoleremo solo con i treni locali. Qui stanno isolando il territorio, speriamo che i sindaci comprendano. Il senatore Salvini ci ha detto ma quanti sindaci, quanti sindaci ci sono, noi gli abbiamo detto una quarantina, ha detto perché è necessario, dice sì, benvenga il comitato, benvengono le pressioni, però se non ci sono i sindaci non riusciremo a far nulla.